Come molte mi hanno già visto, YouTube ha integrato un nuovo player nel stile Dark Andiamola a vedere Entrando su YouTube, andando in un canale, vedremo che il player è nero e non più bianco Da poco tempo è uscita una nuova grafica che si integra perfettamente con questo player Basta cercare Cosmic Panda su Google Selezionare il primo E fare Try It Out Basta cliccare e come vedete sono cambiati i colori La grafica del canale è completamente diversa Permette di vedere l'anteprima dei video in maniera più grande Se è possibile fare anche delle playlist, come ad esempio qua c'è i video caricati Poi anche si potrebbe fare una categoria con ad esempio tutorial, programmi, software Andiamo a fare una visitina Ecco qua Se la nuova grafica non vi piace Basta ritornare su Google Cercare nuovamente Cosmic Panda Clicca sul primo Se vuoi tornare alla vecchia versione Clicca qui Ed eccoci tutto come prima Grazie a tutti Grazie a tutti